La Chiave Chi è chiusa Seguire Chiusa Il mio controllo potenzia anche l'essere più infine Diamo un'occhiata Troppo facile da trovare Sto venendo a prendermi Prego prendete pure Fatemi divorare dall'alto Quante porte bloccate ci sono? Si trova proprio sull'orlo del bar Mi scuardo personalmente Non si aprirà facile Sento il sapore della disperazione Passeranno Passeranno Di nuovo uno scopo Possiamo andarcene Sono sopravvissuti in così tanti? Bene Avremo più dati a disposizione Bene, bene Risultati affascinanti Proseguite Il mio controllo potenzia anche l'essere più infine Non ci sono Non ci sono Non ci sono Non ci sono Essere miserabile, la possibilità di muovere uno scopo. È giunta la vostra fine! Sentite il loro respiro. Sto venendo a prenderli. Il progresso esige un sacrificio, in particolare il vostro. Perché volete il ritardo? Prendi questo! Mi aspettavo di più da un agente di sicurezza. In fondo, se è morto, ci sarà un motivo. Bene. Prendi la tessera di sicurezza e prosegui. Così sarà ancora più semplice eliminarmi. Ehi, sei tra noi. Ragioniamoci, incuriamoci! Grazie a me, davvero. Mi squarterò personalmente. Un essere miserabile, a cui ho dato di nuovo uno scopo. Sto a carattere. Non scherzare con me. L'aria è pregna del fettore della morte, che stimola i ricettori della paura. Il mio controllo potenzia anche l'essere più... Il mio controllo potenzia anche l'essere più... E ora... ...premate ancora di più. Sentite il loro rispiro, mentre rabbrividite di paura. Cerco di vedere qualcosa. Mi squarterò personalmente. E' giunta la vostra fine. Curatevi qui. Sto venendo a prenderli. Grazie per l'aiuto. Abberiamoci. Il progresso esige un sacerdismo. In particolare, un pesco. I vostri sforzi non resteranno inosservati nella mia ricerca. Perchè volete irritar? Perchè volete irritarmi? Non avete ancora abbastanza paura. Non avete ancora abbastanza paura? Il mio controllo potenzia anche l'essere più... Il mio controllo potenzia anche l'essere più... Il raggio del racco non lo salverà dal suo predatore. Funtile. Ma divertente. Diamo un'occhiata. Qualcuno sta cercando di rendercela vivere. Mi squarterò personalmente. Il progresso esige un sacrificio. In particolare, il vostro. L'essere miserabile, a cui ho dato di voi il scopo. Vi raggiungeranno. E per voi sarà la fine. L'aria è pregna del fetore della morte che stimola i ricettori della paura. Sì, sarà ancora più semplice eliminarvi. E ora, tremate ancora di più. Come prevedevo. Perchè volete irritarmi? È giunta la vostra fine. È giunta la vostra fine. Il progresso esige un sacrificio. Il progresso esige un sacrificio. Il progresso esige un sacrificio. Sì, così. Sì, così. Sì, così. Sì, così. Perfetto. Sì, così. Perfetto. E' giunta la vostra fine! La vostra fine è vicino. Gostatevi l'ultimista. Perché volete in ritardo? 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 Andiamo! Sto venendo a freddo. Proprio come l'eleveno. Correte, correte, fino a perdere il fiato. A quanto pare non è abbastanza, eh?